Musica Buonasera a tutti voi, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Aumentano i contagi in regione, diminuiscono in senso assoluto, ma un tampone su quattro è positivo, lo dice la percentuale di positività che riguarda i tamponi molecolari. Intanto nell'ultima settimana sono quasi 11 mila i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia. Anche in Friuli Venezia Giulia la pandemia prosegue la sua corsa che fa registrare ovunque numeri altissimi di contagi. Il 2021 si è chiuso con il record del 31 dicembre di 2361 nuovi positivi. Nella prima giornata del nuovo anno sono state rilevate altre 2331 positività. Un numero nuovamente elevatissimo vicino al record segnato a fine anno e che porta i contagi rilevati nell'ultima settimana a quasi 11 mila cittadini. Ma il picco delle trasmissioni del virus, a detta degli esperti, dovrebbe verificarsi a fine mese. Intanto oggi sono stati rilevati altri 1188 nuovi contagi con una percentuale di positività da tamponi molecolari del 26,69%. Una percentuale questa tra le più alte della quarta ondata. Nella giornata odierna si registrano i decessi di tre persone, un uomo di 88 anni di Trieste, un uomo di 68 anni sempre di Trieste e un uomo di 67 di Rovereto, tutte decedute in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 298, mentre le persone in isolamento sono 14.440. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, oggi sono state rilevate 12 positività tra gli operatori e 5 tra gli ospiti delle residenze per anziani. Intanto si avvicina il rientro a scuole, si profila novità per quanto riguarda le quarantene, le gestioni dei casi covid dalle scuole elementari e medie. Novità che sono condivise dall'Associazione dei Presidi a livello regionale con la Presidente Teresa Tassambiol, che per evidenzia come la preoccupazione maggiore sia legata al personale non ancora vaccinato. Scuola in subbuglio in attesa delle nuove norme sulla gestione dei casi covid, un problema che la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Teresa Tassambiol sottolinea riguardare più i dipartimenti di prevenzione. Detto che l'obiettivo di tenere gli alunni in classe è un obiettivo assolutamente condivisibile, dovrà essere il personale delle aziende a discriminare e a fornire alla scuola gli elenchi di chi starà in classe e di chi sarà a casa. La principale preoccupazione dei presidi riguarda invece la disponibilità del personale che si deve ancora vaccinare. Un margine diciamo di no vax più o meno irriducibili, più o meno convinti resiste ancora. Alcuni si sono adeguati, si sono anche già vaccinati, per fortuna si sono convinti. Molti hanno presentato degli appuntamenti vaccinali il cui termine scadrebbe adesso ai primi di gennaio, il 4 o il 5, insomma a seconda di quando hanno ricevuto l'invito. Quindi resta un po' questo margine di preoccupazione per capire se questi appuntamenti si tradurranno effettivamente in vaccini oppure in differimenti, cioè fioccano i certificati medici. Ci potrebbe essere la situazione che al rientro queste persone non sono in servizio e la scuola dovrà sostituirle nell'esercizio della loro funzione. Intanto però è ancora tempo di vacanze, impianti scistici presi d'assalto nella nostra regione, oggi in particolare a Piancavallo. A un certo punto è stato sconsigliato di salire. La prima domenica dell'anno, un giorno di sole, la nebbia in pianura, la neve sulle montagne e la voglia di uscire di casa. Tutto questo in provincia di Pordenone si è trasformato in un vero e proprio assalto al Piancavallo. Notizia ottima per chi ha ancora bisogno di rifarsi da una stagione totalmente a secco come la scorsa, pessima per il traffico e per chi non è partito di buon'ora trovandosi a dover fare marcia indietro. Fin da questa mattina tantissime sono le persone che hanno scelto il polo scistico nel comune di Aviano per chiudere il weekend. Tanto che in tarda mattinata in cima non c'era più spazio nemmeno per un ago. Nessun parcheggio, rischio intasamento e conseguenti code, oltre all'impossibilità di far rispettare il distanziamento, hanno indotto il comune di Aviano con l'assessore competente Danilo Signore a sconsigliare di salire. Sui social e sui gruppi dedicati è stato pubblicato un messaggio ad hoc. Alla base della salita, carabinieri e polizia locale hanno fatto lo stesso con chi nell'ora di punta sperava di poter andare su. Il tam-tam su Facebook e su WhatsApp hanno fatto il resto con gli stessi utenti che hanno comunicato quello che si è trasformato poi in un blocco. Di fatto l'assessore Signore ha fatto sapere che di fatto il traffico è stato interrotto dalle 12.30 alle 14.00 circa. Siamo ovviamente felici del successo che sta riscuotendo Piancavallo, ha detto l'amministratore di Aviano, ma era nostro dovere fare in modo che non si verificassero disagi o, peggio ancora, non fosse garantita la sicurezza sia sulle strade che rispetto alla salute e alle misure anti-Covid. In coda per sciare o in coda per un tampone per diversi cittadini di Udine e dintorni. Nella prossima settimana ci saranno novità perché una farmacia di Cussignacco dice stop ai tamponi rapidi per protesta. Vediamo. I motivi di questa decisione li comunicherò direttamente all'utenza e a chi di dovere, non alla stampa. Federico Montoro, farmacista, titolare dell'omonima farmacia di Via d'Orlandia a Cussignacco, motiva così il suo silenzio. Lo abbiamo interpellato oggi dopo aver saputo che da domani per una settimana, nello spazio allestito all'esterno della sua farmacia, non si effettueranno più tamponi rapidi. La notizia si è diffusa velocemente tra gli utenti che con cadenza multipla nella settimana si rivolgevano a questa struttura per sottoporsi al test antigenico, trovando generalmente ampia disponibilità di orario. Il dottor Montoro conferma, da settimane, offriamo questo servizio 14 ore al giorno e 7 giorni su 7, così come ci conferma al telefono che il servizio è sospeso. Per ora, per una settimana, ma i tempi potrebbero anche essere più lunghi, fa capire. Nulla di più. Il messaggio che vuole veicolare con questa decisione, che tocca un numero importante di persone che alla sua struttura si rivolgevano, non intende veicolarlo attraverso i giornalisti, i quali, dice, hanno travisato e speculato sulla sua vicenda. Riferendosi, intuiamo, alla diffusione di un video che era circolato sui social, dove lo stesso Montoro si sfogava sulla gran richiesta di tamponi rapidi per ottenere il Green Pass. In un momento in cui la domanda di tamponi, anche rapidi, aumenta vertiginosamente, Montoro torna dunque a far parlare di sé, ma specifica, comunicherò solo con la mia utenza e con chi di dovere. I dipartimenti di prevenzione sono in difficoltà un po' in tutta Italia per l'aumento dei contagi. Ci sono diverse famiglie bloccate, non c'è solo la durata della quarantena come disagio, ma anche, per esempio, l'impossibilità di effettuare la terza dose nel caso in cui la malattia non venga certificata. È il caso, per esempio, di una coppia di San Vito al Tagliamento originaria della Puglia in vacanza nella propria regione d'origine. Lunghe quarantene in attesa di un tampone molecolare, il rischio di non poter effettuare la terza dose e di non avere nemmeno un certificato di guarigione. Una coppia di San Vito al Tagliamento di origine pugliese è in quarantena dal 23 dicembre nella regione d'origine, senza notizie da parte dell'Asli Brindisi. Dopo un tampone rapido positivo effettuato in una struttura accreditata, ma non sufficiente per la regione Puglia ad attestare la malattia. Solo oggi, dopo dieci giorni, ci hanno contattato per fissarci un tampone molecolare per domani e conferma del tampone antigenico positivo. Noi domani potremmo essere negativi dopo undici giorni, quindi per l'Asli di Brindisi non aver mai incontratto il Covid. Noi dovevamo sottoporci a terza dose. Adesso, non avendo un certificato di guarigione e non avendo riconosciuto la malattia del Covid, ci troviamo nella situazione di dover fare una terza dose anche avendo contratto il Covid. Seconda ipotesi potremmo essere ancora positivi, quindi dover effettuare una quarantena di dieci giorni dalla data di domani senza tener conto di tutto l'isolamento che abbiamo fatto dal 23 dicembre ad oggi. Solo poche regioni, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, hanno riconosciuto infatti il test rapido per attestare la malattia. Non sappiamo quasi cosa sperare, confida noi due, se essere negativi e poter tornare alla nostra vita, ma senza sapere come comportarci per terza dose Green Pass, oppure essere ancora positivi con un conseguente lungo isolamento fuori casa. La cronaca, due veicoli sono stati distrutti dalle fiamme la scorsa notte in modo accidentale. Il primo incendio si è verificato a Gorizia attorno alle 2, a prendere fuoco un camper posteggiato in un parcheggio. Le fiamme l'hanno avvolto, il veicolo è andato distrutto, fortunatamente non c'era nessuno all'interno. Sono intervenuti i vigi del fuoco di Gorizia. Il secondo incendio attorno alle 23 di ieri ad Azzano Decimo, qui a prendere fuoco per cause di natura elettrica, è stato un camioncino posteggiato a bordo strada, anche qui nessun ferito. I vigi del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di oggi, intorno alle 6, nei giardini del parco delle case Ate di Via Bassano a Pordenone, perché per cause che paiono essere di natura dolosa, ma comunque da accertare, un gazebo in legno installato nell'area verde comune utilizzata dai condomini è andato distrutto in seguito a un incendio appunto e nessuna persona è rimasta ferita sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri. In Friuli Venezia Giulia nel 2021 sono stati erogati 237 milioni di euro per l'agricoltura nell'ambito del piano di sviluppo rurale e a breve ci saranno fondi ancora disponibili per i giovani. Il 2021 è stato un anno importante per il programma di sviluppo rurale 14, 20 del Friuli Venezia Giulia, prorogato di due anni perché la nuova PAC prenderà avvio nel 2023. Nella sua nuova versione il programma ha ricevuto un'integrazione finanziaria di oltre 106 milioni di euro, dei quali 14 circa messi a disposizione dall'European Recovery Plan. È stato inoltre portato a termine il percorso di consultazione locale per l'agricoltura e il mondo rurale regionale verso il 2030 con la definizione di nove priorità strategiche regionali per rendere il settore e le zone rurali più resistenti e resilienti, più moderne e tecnologiche, più ecologiche, ma con un'attenzione speciale al loro valore aggiunto. È questo il bilancio tracciato dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier assieme all'autorità di gestione del PSR FWG 1420. In vista della nuova PAC, ha spiegato Zanier, è stato condotto anche un lavoro di confronto con il Ministero e le altre regioni per la definizione del piano strategico per il periodo 23-27. Il volume complessivo di risorse erogate è superiore a 237 milioni di euro, dei quali 14,8 di fondi integrativi regionali. Nelle 2022 ci saranno diverse altre opportunità di accesso ai contributi del programma, ha concluso Zanier, a partire dal bando annuale per l'insediamento dei giovani che sarà pubblicato in questo mese di gennaio e poi a seguire diverse altre procedure di finanziamento scandite secondo un cronoprogramma che tiene conto delle tempistiche necessarie per partecipare e al contempo del carico di lavoro istruttorio per gli uffici regionali. L'anno appena iniziato a Udine vedrà cambiare il volto di una delle terre più importanti della città, via le Venezia. Sentiamo il vice sindaco Michelini. Sì, via le Venezia l'altro giorno è stata aggiudicata il primo lotto dei lavori che sono le due rotatorie in pratica, ha una ditta di treviso col primo lotto, il primo lotto di un milione di euro ed è in corso praticamente la seconda aggiudicazione, la gara per il secondo lotto che va a completare i controviali, le fermate, gli attraversamenti pedonali dall'inizio del viale Venezia fino a piazzale 26 luglio dove viene fatto anche una ridistribuzione, una migliorativa dell'accesso e anche del deflusso delle auto che attualmente sono in una fase diciamo abbastanza discordante tra di loro. Quindi praticamente verrà rifatto completamente il viale, mantenendo ovviamente le senza arbore, mantenendo le disposizioni che ci sono, anche con dei luoghi di socializzazione vicino alle rotatorie. Per i disabili verrà rifatto completamente le aree di sosta e completamente è anche rifatto diciamo la ciclabile che congiunge all'interno dei controviali le vie principali. Quindi credo che sia uno dei lavori più importanti che verranno fatti diciamo nel 2022. Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.